ciao ragazzi e benvenuti in questa nuova puntata di contatori del tempo un altro episodio dedicato ai vostri video eccoci qua ancora una puntatella di quelle che ci piacciono tanto di quelle che ci mostrano le vostre collezioni di orologi cioè l'insieme di quei pezzi del ferro con tutti gli ingranaggi le molle possibilmente perché a volte ci sono anche dei pezzettini elettrici elettronici che a noi non ci piacciono anzi la scimmietta apprezza solamente gli orologi che hanno tutte le molle dentro perché lei no quando vede gli ingranaggi girare no lei si concentra gli occhi incominciano a fargli così e vede tutti questi ingranaggi che girano e viene la bavetta la bocca quando vede la batteria gli ricorda l'elettrostimolazione no e allora ha come un moto di schifo capito e fortunatamente noi siamo abbastanza allergici agli orologi a batteria la stramaggioranza dei casi perché è in fin garda anche la scimmietta lo sa che la batteria è in fin garda e ti può lasciare a piedi da un momento all'altro la scimmietta è saggia non pensate che è poco consapevole di quello che vuole ora no come partecipare lo sapete video in orizzontale 7 minuti spigliati belli veloci e anche in questo video ci saranno le video cartoline dalle vacanze perché me le avete mandate e io le pubblico poi a un certo punto nel pubblico più se non le vedete che me le mandate a settembre non le pubblico più è una cosa estiva la cosa simpatica no diciamo allora giugno e giorno è questo bellissimo long jean legend diver 39 mm quadrante nero doppia corona bag interna calibro l888 e bracciale a di riso tutte caratteristiche che ve lo fanno apprezzare come non mai è uno dei miei orologi favoriti no poi io lo sapete che long jean sono sono abbastanza appassionato di long jean vecchi e nuovi come viene viene do coi o coi o come si solleva dire adesso diamo un'occhiatina ai video iniziamo con il primo fuoco con la barra spaziatrice pronte ad essere distrutta un saluto a davide un saluto agli amici del canale queste sono le mie più grandi passioni e quali sono le tue più grandi passioni la moto quella lì con la moto lì quella salta canguri salta fossi lì cos'è la cangurotta i dream theater che ci piacciono tanto un grande gruppo metal progressive hard veramente ascoltatelo se potete e poi il fumo il fumo uccide eppure sei un appassionato brut race va bene bravo quella degli orologi è forse la più recente da due anni e mezzo davide mi ha contagiato mi devi assolutamente qualcosa sul conto corrente questo è l'orologio che porto adesso al corso bello c'è anch'io un oris 65 veramente veramente cosa fa ti fa dell'accio emostatico che polso c'hai un polso gigante ma anche diciamo bello morbidoso è ti fa dell'accio emostatico veramente di impatto me lo guardano tutti gli appassionati mi fanno i complimenti i non appassionati mi chiedono cos'è acciaio e bronzo molto molto bello molto molto iniziamo con il primo orologio che ho comprato un seco 5 di tutto rispetto sinceramente un orologio a cui spero di aver portato rispetto nonostante io abbia avuto l'idea di moddarlo ne ho cambiato la netta la ghiera interna non cambia del vetro con questo vetro leggermente bombato che preferisco all'originale antiriflesso questo bracciale della strap code ma basta quanto l'orologio ma di una notevole fattura il suo calibro a vista ma ora no spendere dei soldi cioè il bracciale che costa quanto è l'orologio poi c'è messo il vetro c'è messo un inserto ghiera che sembra quello come design dello yacht master ma che senso ha ma che senso ha spendere tutti questi soldi poi ognuno fa quello che vuole per l'amore di cielo è fatto bene contento e contenti tutti ma a parer mio è una puttanata come si suol dire in francese è una puttanata nel senso che una casa fa un orologio così e tienilo così capisco ci vuoi mettere un cinturino in perda ogni tanto poi ci rimetti il suo bracciale ma modificarlo così radicalmente vetro addirittura non ha senso per me non ha senso cioè è come quando uno tempo fa ma penso anche ora no è a arley davidson mi piace l'arley davidson compri l'arley davidson fino a che punto rimane un arley davidson perché c'erano c'è gente che comprava il telaio su vv su vv sacos il telaio poi comprava il motore della revtech mi ricordo nemmeno come si chiama ci metteva quel motore lì veniva fuori una moto arley davidson costituito ma non c'era più niente di arley davidson c'era magari rimasto il serbatoio dell'olio per dire no quindi fino a che punto si può modificare un orologio per poi non considerarlo più come mamma l'ha fatto che non prediligo anche per le scritte sul vetro ma un calibro che non è precisissimo ma di certo stabile stabile un orologio che mi piace molto sempre un entry level un citizen un pro master edizione limitata per l'italia di al di al di questa bellissima conformazione azzurra scura nera un pvd che non adoro ma che adoro le lancette rosse e trovo molto bello il fatto che sia con i giorni della settimana in italiano oh che godure un cinturino giallo perché di certo bisogna distinguersi ah certo come assidui sostenitori di cecchettini allora cecchettini cecchettini ma te c'è dei problemi psicomotori è come si suol dire intanto se utilizziamo i termini per fare fighi no quadrante in inglese si scrive dial ma si pronuncia dial ok dial va bene sono 10 quadrante non è che puoi storpiare e poi il cognome cecchini cecchettini cecchettini chiamami ceccherini già che ci sei siamo a posto ho comprato un omega so che adori questa casa questo è l'orologio che mi sono potuto permettere nel senso che ho veramente cercato di averlo una referenza che mi piace particolarmente preferisco questa di configurazione a quella con le lancette più lunghe a bastone suo bracciale originale ma questo cinturino un band in aldicatore di john cool strap è veramente veramente fatto per lavoro te me lo fa amare questo contrasto grigio e nero e mi piace è originale sta cosa bravo un altro orologio di amazon abbastanza importante che so che anche tu hai messo sott'occhio questo acqua razor 300 metri che merita di essere portato al mare e che io porto al mare bravo lo porto in piscina con il suonato originale mi piace veramente molto bravo così ti voglio un altro orologio che vado particolarmente orgoglioso bello questo friga questo carica manuale di che razza è bellissimo 44 mm un pilot ovviamente della steinart ah bello bravo ecco qui viene conferito con altri due cinturini ma penso che la cosa più bella di tutte sia la lavorazione del movimento un qualcosa di incredibile per me secondo me solamente in orologi più costose si vede una manifattura del genere è eccezionale a ma che a me piace certo bello bello ora steinart è una di quelle case che non andrebbe presa in considerazione per lo meno io non la prendo in considerazione quando penso a qualche orologio da procurarmi per fare una recensione a steinart non ci penso eppure potrei non ci penso assolutamente perché tedesca va bene non so dove fanno fare gli orologi non lo so ma per la maggior parte per la maggior parte buona parte del catalogo ha copie di altri orologi più famosi no io qua sui pilot chiudo un occhio è normale che sia così perché il flieger è una tipologia di orologio che è stata realizzata da tantissime case capito è proprio deve essere fatto così gli orologi della seconda guerra mondiale erano fatti così e li fanno così li fanno tanti fa orient li fa le case tedesche che lo facevano già nella seconda guerra mondiale quindi essendo un design diciamo di dominio pubblico buttiamola così no lo accetto però io steinart come come azienda non la prendo in considerazione capito ok l'orologio per la sera per le grandi occasioni anzi tornando un attimo dietro scusami ma perché se devo comprarmi un flieger perché mi devo prendere uno steinart quando c'è l'aco che probabilmente allo stesso prezzo o anche meno ti offre lo stesso flieger ma almeno l'aco è quella casa che durante la seconda guerra mondiale li faceva davvero e riforniva la luftwaffe no perché ora mi dice si costano tutti i 5 mila euro quegli orologi lì i vc cosa vuoi che ti dicono non lo prendo ma ci sono anche le case come l'aco che le fanno abbastanza economici la portata di tutti con un po di sforzo ma perlomeno è un marchio che ha senso di esistere un orologio di secondo polso con qualche graffietto ma che non ho voluto lucidare questo black bay acciaio d'oro simpatico che io adoro non le dirigo anzi e che dire che dire un orologio che ha la sua importanza si fa notare di certo non è un orologio che si può mettere con tranquillità nelle peggiori strade di milano ma che dà veramente delle buone soddisfazioni un orologio veramente dà le linee classiche bravo l'orologio più importante che ho un orologio molto 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 simpatico un orologio che mi fa divertire snoopy che va in motocicletta come me e che dire divertente e adesso infine ma non per ultimo il mio regalo per me per la mia laurea 1988 bravo top vintage con il suo bellissimo bracciale rollo bravo acciaio oro molto molto bello molto molto simpatica i due quadranti simpatico il fatto che le maglie sono tutte originali e benissimo conservate un orologio che si presenta con la sua scatola originale e garanzia un orologio che sinceramente non penso di vendere mai un orologio che amo particolarmente ovviamente non è stato ristampato si vede qualche segno sui piccoli contatori dell'oro che inizia a andar via ma io penso che un orologio mantenuto in queste condizioni sia assolutamente da apprezzare certo davide io ti saluto ti rifaccio vedere quelle che sono le mie passioni ti auguro veramente di poter avere ancora più successo con il tuo canale di ricevere tutto l'affetto possibile immaginabile da noi utenti e ti auguro il meglio il meglio love love ciao caro amico bravo 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 dei belli orologini e diciamo sull'omega speed master sei andato a scegliere una referenza particolare che piace con le sfere così bro darò a me piace tanto è a volte ci penso però avendone già uno di speed master perché però la scimmietta e gliene frega sei se hai già uno speed master no lei dice ma quello lì è diverso è diverso c'è la faccia diversa perché non lo prendiamo davide perché mi piacerebbe anche a me avere un bro darò a dire la verità è automatico magari e vabbè allora senti do un bel set alla collezione perché poi col breitling finale col bracciale ci hai fatto proprio salire di livello che poi vanno che spesi soldi anche a me piace il breitling cronomat col bracciale rollo ma ma spesi la spesi sono di uno da tradire il fare c'è di mezzo il mare bello lo vorrei anch'io poi quando c'è i soldi in mano magari compri qualcos'altro no devi buttarti in una roba del genere un po meno un po meno mi piace un po meno il tudor lì quello acciaio oro e tra l'altro quelli tudor dovrebbe utilizzare l'oro incamiciato cioè non è oro massiccio è un'anima di acciaio con rivestita di una sottile lamina di oro non mi piaceva tanto quello quello orologino lì e poi la mia gli acciaio euro piacciono sarà che c'ho il concetto che non è oro massiccio magari mi frena un pochino no sono un po quei trucchetti che insomma va bene dai un set te l'ho dato aspettiamo nuovamente il timex con la motocicletta non lo commento nemmeno perché hai fatto bene avercelo perché ci vogliono anche gli orologi divertenti è giusto così no a me un amico un amico del canale all'ultimo watch meeting mi ha regalato un orologio della campari mi voleva prendere in giro e lo tengo la tutto di plastica sembra tipo swatch no tutto di un pezzo con il cinturino plastica c'è una particolarità che ha ecco c'ha gli leo i numeri arabi che saltano dal cioè non sono messi in ordine 12 1 2 3 sono tutti sfalsati per scherzo no mi avevo anche pensato di regalarlo mio padre ma poi ci impazzisce cioè con i numeri sparsi così figurati un po che i numeri che vengono fuori vai niente comunque l'orologio divertente in collezione ci sta ci vuole da prossimo video ciao davide e ciao a tutti gli amici del canale canale sono un ragazzo di 25 anni ventici di vicenza bravo non si sente e oggi volevo presentarvi la mia collezione e dai allora partirei innanzitutto con gli orologi classici ritrovamento da cassetto dove dalla parte materna grazie ho trovato questo tisso si star bello 35 36 mm è bello placato oro peccato un orologio che porto tuttora tisso è un marchio da parte paterna grazie anche lì ho trovato questo lanco mod 11 e ci sono molto affezionato perché appunto sul fondello c'è un incisione che riguarda appunto mio nonno dove segnato l'anno del suo diploma i ringraziamenti da parte del preside e la dicitura come miglior studente del corso tanta roba dico perché l'orologio del padre con le incisioni dietro che ricordano quei momenti è tanta roba ora l'anco modello 11 c'è il deluxe che c'è anche il ritaglio di giornale anzi c'è ancora quello è la versione un pochino più diciamo di lusso deluxe no però da notare la bellezza della cassa della forma cassa di questi modelli 11 con queste anze così sinuose che tra l'altro ora no uno dice gli orologi vintage si assomigliano tutti trovatemi qualche altro orologio con la cassa fatta così io quando vedo una cassa fatta così che non tiro fuori al volo capisco subito che è un lanco modello 11 è veramente particolare questo questa forma di cassa così che sembra le anze che vanno a raccordarsi con la lunetta per poi ritornare a diventare anze ottimo orologio questo qua se era di tuo abbo sarà tutto originale cosa è la cassa cromata però vero perché vedo la corona che sta cominciando ad abbandonare la cromatura salta fuori l'ottone otto one molto molto precari dopodiché al primo mercatino cui mi sono recato all'età di circa 11 anni 12 ho acquistato questo tisso si star una misura leggermente più grande di quello placato d'oro di prima in acciaio pagato 20 euro il quadrante totalmente disintegrato vabbè è stato il mio primo acquisto ne vado fiero penso che non lo venderò mai 20 euro un tisso ragazzi hai fatto un affare bene sei affezionato non lo venderai mai ma domani ti metti a venderlo cioè perché lo devi vendere a meno di 100 euro non si capisce perché lo devi regalare quindi hai già fatto un guadagno del cinque volte la spesa fatta detto questo tisso è uno di quei marchi che secondo me vale anche la pena collezionarli il tisso vintage secondo me si trovano appunto con pochi con pochi euro nelle bancarelle anche lì però bisogna studiare per evitare magari ti sei stato fortunato perché non ho visto niente di strano ma magari dentro chissà cosa c'è bisogna un attimino mettersi di quadrati cominciare come faccio io con le longine a studiare capire le pubblicità e cataloghi vedere come erano un po di storia tutto calibri che usavano e a quel punto lì coi tessuti togli delle soddisfazioni perché ne hanno sfornati a decine e decine e decine di modelli non si finisce più però per secondo me è come l'anco di prima marchi che vale la pena collezionare come monomarca mi sono spiegato successivamente ho acquistato un psycho turtle un orologio che non mi è mai piaciuto dai render sono sincero però quando l'ho visto dal vivo in giugneria mi è piaciuto tantissimo trovo la cassa veramente che dà un senso di robustezza ma senza essere pacchiana e troppo pesante insomma per lo stesso orologio che mi piace molto se utilizzo anche molto ma certo è un bello orologio il tart altro diver questo doxa sub 200 acquistato col suo bracciale che il problema è che d'estate non riesco a trovare nella misurazione fine del bracciale la misura che mi vada bene quindi d'estate sono costretto sono sfigato su sta roba d'estate sono costretto a montarli come se mi dispiacesse questo cinturino in gomma come se dispiacesse il bracciale a chicchi di riso dei doxa del sub 200 è è metà dell'orologio fra un po' è come è come per dire anche in questo caso qua ora legenda è bello è bello anche con un con uno spago è bello anche con un cinghietto però insomma il bracciale a chicchi di riso se ora ti mi dici che non riesci a trovare la misura diciamo che magari siete un po' intollerante se un pochino lo vorresti precisissimo perché è impossibile che non si trova un minimo di sopportazione per avere la misura al polso giusta sei intollerante te al millimetro insomma piace molto come risulta sull'orologio non è il cinturino e doxa è uno generico certo però ecco un piccola pecca comunque soggettiva perché il problema è mio non riesco a trovare nella regolazione fine appunto togliendo maglie provato a toglierne mentre fatto le combinazioni ma niente niente posso anche metterne a togliere ma con la regolazione fine non ne vado fuori dopo di che il primo cronografo che ho acquistato questo cycle automatico 6139 anni 70 e quadrante rose champagne champagne è un orologio che porto poco non ho mai sistemato tutti i fatti bracciale sporchissimo pieno di graffi non mai fatto lucidare niente è stato solo gli altri movimento revisionato il movimento sì lo uso però essendo molto 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 spesso faccio faccio fatica alle volte quindi lo indosso di rado al suo bracciale e niente e niente bello 6139 con azione cronografo va bene questo omega speed master automatico triple date triple date è un orologio io ero dato in gioielleria per acquistare un reduced però arrivato lì ho visto questo fatto bene e di fianco al reduced questo può piacere o no per il mio gusto personale a mille volte la personalità del reduced certo poi io ho un polso abbastanza piccolo quindi il professional si me lo vedo ma devo abituarmi c'è certo quindi a me questo è piaciuto moltissimo fatto probabilmente all'epoca anche di fianco al professional avrei preso questo che sia proprio stregato il discorso che abbia il giorno il mese la data mi piace tantissimo e niente penso che li farei la stessa scelta anche perché sono convinto che gli orologi prima di acquistarli vadano capiti e forse io comincio a capire ora il professional speriamo dopodiché ultimo acquisto cos'è questo giugno giuda diverso no d'oro toccato tanto ora vederlo in oro così mi viene la scimmietta salta fuori la scimmietta che dice questo qua è un orologio che deve essere in oro il giugno e l'ecuta diverso in oro ecco però non c'è la non c'è la sfera dei secondi perché non c'è la sfera dei secondi devo abituarmi a sta cosa che manca la sfera dei secondi e poi sarei l'uomo più contento del mondo e un giorno mi abiterò però un orologio così classico d'oro secondo me veramente costa anche mi sa vabbè bravo dopo te lo dato finalmente appunto l'ho trovato l'ho fatto revisionare l'ho fatto lucidare in casa madre bravo e l'unica cosa che mi manca adesso è trovare il suo cinturino in struzzo con quale appunto usciva questo anologio del 99 se non erro per appunto completarlo perché devo valutare se lo struzzo la tonalità di struzzo con il quale usciva non so forse è troppo chiara per loro adesso valuterò in caso appunto punterò un altro cinturino di qualcos'altro comunque è un orologio che mi piace tantissimo ha un piccolo segnetto qui sul vetro per carità però a me piace veramente veramente tanto ma niente io ho finito ringrazio tutti per l'attenzione ringrazio davide se mai deciderà di pubblicare ma sicuro pubblichiamo un saluto e love 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 bello il reverso lì poi quando fai lo scattino per girare che vedi il perlage sull'oro il garlage sull'oro è veramente la fine del mondo il per l'altro è quella lavorazione no a semicerchi cerchi contigui che va a decorare una superficie piana senti come ho spiegato bene e sull'oro fa tutto un altro effetto e quando lo vedi proprio ti vengono voglia di toccarlo o dico di leccarlo però va bene non esageriamo sette e mezzo ti do ti do sette e mezzo perché è una gran bella collezione ma nemmeno nemmeno troppo esagerata però hai tutte le cosine al posto giusto i tuoi vintage quello del babbo lo speed masterino ce li hai gli orologini dai bravo sei sei di mio gradimento come si suol dire viva il reverso ora mi vado a studiare stai zitta io vado a studiare il reverso d'oro ciao davide sono piero e questo è il secondo video che ti mando prima di mostrarti l'aggiornamento della mia raccolta di orologi ti mostro questa splendida tovaglia che va ad aggiungersi alla lista delle tante e simpatiche tovaglie mostrate dagli italiani altri amici del canale ma dimmi quando le ciance sono tanti siamo con il primo aggiornamento il primo orologio che ovviamente un quarzo si tratta della riedizione del del g shock del 1983 che io ho posseduto addirittura volevo volevo riacquistare ovviamente in chiave in chiave moderna in chiave contemporanea quindi questa tutte le caratteristiche di un g shock moderno quindi massimo solare work timer 20 bar italia controllato radiocontrollato e le simpatiche funzioni tipiche dei g shock non si può fare a meno da un orologio che da piccolo praticamente indossavo sempre oggi lo indosso in tutte le situazioni dove magari gli altri orologi potrebbero essere un po a rischio anche quando suono insomma che io sono batterista quindi un orologio che secondo me in collezioni ci deve stare proseguiamo con un orologio vintage che proviene direttamente dall'anno 1983 e si tratta di un simpaticissimo seiko quartz bello con questa cassa che sinceramente non so come si chiama e nemmeno io io lo adoro è diventato uno dei miei nuovi everyday watch è veramente molto 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 questo sicuro dire leggerissimo è stato indossato pochissimo e purtroppo è stato lasciato nella scatola con la batteria che ha rovinato il movimento e l'ho dovuto far sostituire ci ho fatto installare un nuovo movimento seiko al quarzo ma pensate un nuovo movimento seiko al quarzo cosa vuol dire che ce l'hai messo uno di quelli di quelli moderni non dirmi che hai fatto questa oscenità perché ti sto per fare complimenti dell'83 ci sono ci sarà un calibro di quelli degli anni 80 fino anni 70 insomma stiamo parlando della storia dell'orologeria al quarzo poi la batteria in fingarda ti ha rilasciato l'acido perché in fingarda è cambiato il calibro ci hai messo un calibro nuovo al quarzo non è specificato io spero suppongo mi auguro che tu abbia messo lo stesso calibro che ci doveva essere dentro no sennò è un pezzo d'acciaio con un trapianto di cuore ma un cuore alieno a parte questo io l'adoro è sottilissimo leggerissimo è veramente veramente gradevolissimo come orologio certo io veramente lo adoro bravo ovviamente tutto il corretta roba quindi la scatola originale la carta esterna le maglie aggiuntive la garanzia dentro ci sono i timbri lì ho potuto leggere che è stato acquistato nell'83 in una gioielleria di torino veramente carino datario in italiano mi piace molto il fatto che le sfere siano state contornate di nero a me questo orologino piace da morire per i meccanici invece sotto natale ho trovato un offertona per questo seico della serie snx quello con il quadrante a 5 e a me il seico di quella serie piacciono veramente tanto tutto mi piace di questi di questa serie gli indici le sfere questi questi quadranti con queste texture con quei tutti questi scudi col cinque ripetuti il day date incorniciato le dimensioni e le proporzioni della cassa poi ci ho messo questo jubilee simile rolex trovato su trovato sui soliti marketplace cinesi però perché ci volevo mettere il jubilee insomma quello suo non mi piaceva tanto va bene devo dire che insomma ci sta ci sta bene c'è la banese sua diciamo così provo brevissimo aggiornamento sull'orient maestro ma è di cui l'altra volta mi avevi bocciato il cinturino in pelle verde che ci avevo messo quindi ci ho rimesso il suo bracciale ma la milanese devo dire che forse si hai ragione tu sta molto meglio così e continuo a sostenere che questo orologio un rapporto prezzo qualità eccezionale sempre brevissimo aggiornamenti di tale questo seico 5 sport che adesso sta andando forte è stato declinato in tante varianti soprattutto la gmt questo era il modello con il dial blu e gli indici e le sfere dorate e usciva con un cinturino in pelle con le impunture bianche però io ho voluto rimetterci il suo bracciale originale seico perché secondo me ci sta meglio però sempre sotto natale altra offertona che ho trovato questo siti zenzu iosa con il dial nero praticamente spedito gli ho dato forse meno di 200 euro quindi bravo per citare per fare una famosa citazione un'offerta che non si poteva rifiutare infatti l'ho preso perché mi è sempre piaciuto questo orologio dalle proporzioni secondo me più aggraziate rispetto al al prx concludiamo con un bel pezzo finalmente questo cartier santos che proviene direttamente dalla metà degli anni 80 si tratta anche in questo caso di un lascito e della stessa persona che mi aveva donato questo zenith d'oro di cui sicuramente tutti ricorderai questo modello è sempre un po diciamo piccolo infatti è un 30 per 31 di lag to lag all'epoca so che insomma anche gli uomini indossavano orologi un pochettino più piccolo misure lady però a me piace come mi sta anche un po anche se un po piccolino mi piace faccio vedere purtroppo di questo non ho il corredo infatti mancherebbe almeno una maglia se non due d'estate mi stringe veramente tanto d'inverno invece riesco a portarlo però è bellissimo questo questo che proprio il modello classico accea e oro credo che sia veramente il più bello simpatico da un pezzo di storia io io lo adoro e tramite le scritte sul fondello facendo un po di ricerche solo sul web ho scoperto che appunto è stato è stato prodotto diciamo nel verso la metà degli anni 80 e niente che dire niente è un orologio che che mi piace tantissimo sono molto felice che mi sia stato donato e spero che almeno questa volta diciamo mi prenderò un toppino visto che l'altra volta con la disdive ovviamente mi ero beccato giope caldo tutto qui per il momento ci sono piaciuti questi aggiornamenti un grande saluto e un ringraziamento a te agli amici del canale rock ciao carissimo un bel set ti do chiaramente solamente il voto vale per questa parte di collezione che ci hai mostrato come aggiornamento perché tutti gli altri pezzi del ferro che ci avevi là dietro non ce ne fatti vedere ci hai fatti vedere l'altra volta come lo zen di tutto d'oro mi bene un bel set soprattutto con questo simpaticissimo ultimo cartier cartier e se chini dai secco quarti che non si sa cosa c'è fatto un bel set ma anche l'esposizione era da sé dai comunque vabbè prossimo video ciao davide ciao io mi chiamo riccardo e ti mando questo video dagli stati uniti dove da poco più di un anno vivo con con mia moglie e mio figlio ti faccio vedere la mia piccola collezione di orologi partendo dai giapponesi giapponesi come 5 visto rivisto sul canale e l'ho comprato qualche anno fa quando probabilmente costava alla metà non l'ho trattato benissimo come vedi vetro abbastanza rigato però è ancora lì che fa come si dice su questo canale che fa il suo un bello orologetto diciamo rapporto qualità prezzo ottimo ottimo altro seiko vai sqx 013 l'ho cercato tantissimo online per trovarlo originale ho studiato su come riconoscerlo quindi ghiera col dot incassato l'indice euro e 6 corretta come vedi alla ghiera un po un po rovinata e siccome io sono un po fissato su queste cose online sono riuscito a trovare bravo ghiera di ricambio originale non l'ho pagata pochissimo ho controllato i seriali su un sito dove davano appunto tutti i seriali delle parti degli sqx e l'ho comprata mi piace la gente così che sta a spendere anche dei soldini per avere il pezzo originale da mettere di sopra piuttosto che il compriamo la ghiera come lo yacht master come ha fatto quell'altro e l'appiccichiamo sopra ecco facciamo la crocchio facciamo andiamo a schiaffeggiare un orologio storico no ha preso guarda qua il secco che tra l'altro quando quando gli metti questa qua io quella vecchia la prenderei la metterei dentro la bustina perché mi fa mi fa mi fa valore anche la bustina vederla mi fa piacere vederla la bustina con i codici della secco per dire no è così per me è così che funziona mi piaceva appunto averlo in condizioni ottime la sostituirò la sostituirò a breve o bravo il mio primo vintage cos'è anno 1974 sei con navigator timer anche questo trovato online in buone condizioni ai finali del del bracciale come vedi un po un polaschi il mio primo gmt per gli anni che ha secondo me è tenuto però non era fatta così mi piaceva l'idea da averlo in collezione sono molto soddisfatto l'unico forse difetto che ha e che ha diciamo la la ghiera interna il un po ballerina si muove un po lenta ecco si gira si gira spesso quando tocca quando tocca il polso ma vabbè da un vintage passiamo i miei carica manuale il primo è maraton officer general purpose la versione in acciaio fanno anche la versione in plastica questo a indice sferi altrizio 36 mm l'ho comprato perché mi piaceva molto la forma della cassa è un orologio molto piacevole da portare al polso c'è leggero monta movimento carica manuale eta 2801 se vuoi l'unico difetto che ha almeno uno dei difetti che ha è il passo ansa da 16 mm che diciamo restringe di molto il campo per quanto riguarda i cinturini delicati sono molto contento di avere in collezione il discorso del 16 non è che mi restringe i cinturini che sono in commercio va bene quello me ne importa anche è proprio che 16 mm di ansa è veramente lo fa sembrare veramente un cordino al polso hai capito cioè specie uno che ce l'ha un po grande ecco danno più fastidio non tanto il diametro piccolo e lag to lag piccolo di un orologio che sul polso ci sta bene è proprio lancia la distanza tra le anze sproporzionata sia in grandezza che in piccolezza quello mi dà fastidio se sono troppo grandi o troppo piccola se dice veramente altro carica manuale emilton khaki field perfetto la versione in bronzo bronzo volevo un emilton in collezione e non mi dispiaceva neanche l'idea di avere un orologio in bronzo che ho preso due piccioni con una fava fava bravo ho il suo cinturino originale in pelle ma lo sto usando con questo onato nero con questa linea centrale che richiama un po la colorazione del bronzo è un orologio che diciamo conosciamo tutti leggibilità leggibilità massima qualità che non si discute a me siete devo dire non mi dà neanche fastidio l'assenza dell'antiriflesso lo trovo comunque molto molto leggibile ci facevano caso figurati passiamo diver squale questa è la versione montoc disponibile solo sul mercato americano 38 millimetri quadrante blu questa referenza non è più commercializzata sono riuscito a trovarlo di secondo polso in ottime condizioni con tutto il corredo è un orologio robustissimo 300 metri di impermeabilità lo userò molto probabilmente quest'estate devo dire che la qualità per il prezzo di questo orologio è molto molto alta perché qui diciamo le versioni montoc più nuove stanno al 18 dei 700 si no sui 700 dollari quindi direi che è un rapporto qualità prezzo veramente veramente ottimo c'è un po di bright ringer un po il prossimo lorice di crown 36 mm questo l'ho comprato perché cercavo un orologio di ispirazione un po vintage senza addentrarmi troppo nel nel mondo vintage perché non ero preparatissimo devo dire che sono rimasto piacevolmente stupito dalla dalla qualità di quel di questo orologio è fatto veramente veramente bene l'unica cosa che non mi piaceva tantissimo era il fatto che al passo anza da 17 e il cinturino originale va a rastremare fino a 14 è veramente troppo quindi ho sostituito con questo cinturino che arriva almeno a 16 alla alla fibbia ho trovato anche la fibbia oris da da 16 mm e devo dire che lo lo preferisco con questo con questo cinturino ma è un orologio che mi piace tantissimo lo uso prevalentemente per per andare in ufficio poi ti faccio vedere due orologi uguali perché long in spirit 37 mm questo lo abbiamo comprato con mia moglie quando è nato nostro figlio e io la versione blu è la brava quadrante champagne champagne lo conosci benissimo certo un orologio simpatico qualità indiscutibile leggibilità massima luminosità veramente veramente top e che dire io l'ho già rigato però così non lo utilizziamo molto e l'abbiamo comprato per per questo certo ultimo orologio brightling il mio primo coronografo ero partito per comprare il cronomat e la versione vintage poi studiando un po ho trovato questa questa referenza da 38 mm io il polso da 16 mm quindi non mi posso permettere 16 mm diciamo da da 40 plus e devo dire che questo orologio è bellissimo e la versione questa è la referenza a 41 3 3 0 quindi certificata cost breitling è un marchio che per me ha un valore affettivo perché i miei genitori hanno due brightling anni 80 e glielo visti sempre al polso quindi brightling è un marchio che fa parte della mia infanzia ne volevo uno in collezione e alla fine dopo dopo diverse ricerche ho optato per per questo e ne sono ne sono soddisfattissimo bravo bene questo è tutto io ti ringrazio per per i video che pubblichi che mi stanno aiutando ad evitare le ciofeche il più possibile e continuerò sicuramente a seguirti dall'altra parte del mondo del mondo bravo ciao 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 ora ciao 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 la prossima commenta il NaviTimer ha senso ad averlo anche grande al polso, quindi, poi contento te, contenti tutti, comunque tutti i belli orologi, ci ha mostrato tanti belli orologi, tutti con un senso logico, con la passione che è dietro, perché vedo che spendi soldini per prendere la ghiera, per cambiare le cosine, ma tanta roba, ti do un bel otto, otto te lo sei meritato, bravo, vada a altri video dall'altra parte del mondo, e adesso cari amici vicini e lontani, è il momento delle famigerate, videocartoline dalle vacanze, andiamo a vedere cosa ci manda la gente, ciao Davide, un saluto dalla splendida Numana, stamattina la mia morosa, come regalo di compleanno, mi ha portato qua, mi ha fatto una sorpresa, io non sapendo che orologio portare, credo di aver fatto la scelta giusta, con questo bellissimo squale, su 39, con il mio primo acquisto, come orologio automatico, sempre con me nelle occasioni più belle, bello, che dire, fa il suo, molto molto bello, un salutone, un abbraccio, e tante care cose a tutti, ciao Davide, ciao, dalle acque della Sardegna, vicino a Ristano, una pillola estiva per te, vediamo un po' cosa emerge dall'acqua, che tu ti lamenti sempre, che non bagniamo i nostri orologi, ecco, ecco, che emerge qualcosa, ecco, 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 si tratta di un Seiko SKX, bravo, completamente modificato, ecco, un saluto, peace and love, ecco, ecco, ciao Davide, sempre Cristiano di Roma, di Roma, visto che hai apprezzato in precedenza i miei orologi, ma un po' meno il mio polso delicato, oggi per accontentarti, ho messo il Rolex Datejust, che ho sottratto a mia moglie, 28 mm, mamma mia, piccolissimo, ciao Davide, sempre Cristiano di Roma, ultimo appuntamento dolomitico, meno male, per questo evento, ti presento il mio squale 15-21, special edition, per i 60 anni, bello, love a te e alla community, squale va, ciao Davide, e un saluto a tutti gli amanti degli orologi, siamo a Lignano, sabbiadoro, con il Mido, Ocean Star, un titanio, che non ha paura dell'acqua, Giovanni da Fontana Fredda, un saluto da Lignano, sabbiadoro, love, buongiorno Davide, sono Giovanni da Portici, come vedi, dal mio orologio, l'ora, adesso, ti faccio fare un bel bagnetto, alle 7 e il quarto, vai, ciao Davide, sono Nicola da Pescara, ti mando i saluti dal mare Adriatico, il bagno alle 7 e un quarto di mattina, è una cosa fantastica, eh sì, e, l'orologio, questo, anche te, pro master, cinturino giallo, come il maestro insegna, ciao Davide, buona giornata, e, complimenti per il canale, continua così, vanno di moda, eh, pro master gialli, un piccolo aggiornamento, il giorno dopo aver fatto il video, succede questo, mentre in acqua, si sgancia, l'anzetta, per fortuna, il cinturino nato, mi ha salvato l'orologio, ecco fatto, gli ha sganciato l'anzetta, quale può essere il motivo, eh, la prima cosa che mi viene in mente, è che è colpa tua, che non hai controllato, probabilmente hai messo male l'anzetta, sono quelle originali, hai lasciato, in ogni caso, avete visto che il nato, qual è il suo, il suo compito, è quello di, far rimanere attaccata, la testa dell'orologio, anche se si stacca un'ansa, se si staccano due spring bar, ce l'hai nel do maggiore, ma ci vuole anche tutta una serie, di sfortunati eventi, che ti portano a quel punto lì, eh, ciao Davide, sono Stefano da Corfu, finalmente, un bel bagnetto, in queste acque cristalline, con il nostro, fidatissimo turtle, bravo, ciao ciao, ciao ne, dove siamo? ciao Davide, un saluto da Riga, Riga, con questo, Longin, Ultracron, calibro 431, cassa oro 18 carati, bello, lo voglio, messo al polso, per non lasciarlo, alla merce dei ladri, considerando questi giorni, particolari di festa, nella Roma deserta, spero ti piaccia, sì, un caro saluto, e love, lo voglio, ciao Davide, ciao Davide, ciao, saluto da Riga, amici del canale, della bellissima Isola d'Elba, Isola d'Elba, ecco lì, bellissima, doxa, che si fa un bel bagno, bravo, Davide, altro che Maldive, Palma di Magliorchia, beccati Marina De Cerveteri, 19 agosto, vuota, e noi fieri, Tagoglier Acquarese, Hamilton Cagifield, bravi, buone vacanze, è bella che Marina De Cerveteri, ciao Davide, sono Emanuele, e questo è il primo video che ti mando, e te lo mando dalla bellissima spiaggia di, V2Me, ad Antipaxos, sono in compagnia del mio Citizen Pro Master, ovviamente, bello usato nell'aria, e nell'aria, sentami nell'acqua, e niente, questo è quanto, spero che il prossimo video, riesca a mandarselo con, Zenit Defi, o un gran Seiko Diver, bravo, un abbraccio, e rock, ciao Davide, buon ferragosto a tutti gli amici del canale, ci troviamo nel fiume Nera, in provincia di Terni, a 5 km dalla cascata del marmone, voglio fare questo video, per tutti quelli che, il diver, non se lo portano mai al mare, o in piscina, io me lo porto anche al fiume Nera, e ci faccio il bagno, ecco fatto, il bagnetto, la pozzanghera, ciao a tutti, ciao Nera, nel fiume Nera, Nera, olè, ciao Davide, ti mando questo video, dal lago di Fiastra, ad oltre 600 metri di quota, nel parco nazionale dei Monti Sibillini, con al polso questo, Seiko, tarton, con cinturino flat, flat, buon estate, Seiko anche te, ciao Davide, sono Stefano, video incontro tendenza, rispetto, a quelli che ho visto fino ad oggi, sono venuto a prendere il fresco, in Val Bambana, alta bergamasca, e ti faccio vedere il mio, Longines Heritage, calibro L688, acciaio, 41 mm, vetro zaffiro, ruota a colonne, anche se piove va bene, è un 50 metri, quindi è giusto un water resistant, e va benissimo, ciao, buona giornata, ciao, ciao, ciao Davide, e a tutti gli amici del canale, sono qui, con Penny, eeeh, godendoci un po', di fresco, con il nostro, promaster, sul quale ho montato, il suo cinturino originale, e, sul quale ho fatto montare anche, un, vetro zaffiro, così, è ancora più indistruttibile, bravo, che già di per sé, è un orologio, affinabilissimo, e robustissimo, ah bene, abbiamo capito, ciao a tutti, buona vacante, ciao, ciao Davide, ciao scimmiati del canale, vi saluto da Lignano, con al polso, il nuovo, acquisto, per l'estate, ciao, questo è il mio vecchio, ciao, ciao piccola, G-Shock, indesatto alla mia ragazza, che vi saluta, bu ciao, oppa, eeeh, battesimo effettuato, è il battesimo, un saluto a Eli, Basbop e Tommy, del gruppo Telegram, buone vacanze, ciao Davide, ciao, sono Lorenzo, tuo fan, qua mi trovo in Costarea, in ferie, e come puoi vedere, uffiamelo, ProMaster, con Lumen, Tropic giallo, come cinturino, bravo, volevo salutare tutti, un abbraccio, a tutti i tuoi fan, e a te, due richieste, una è una domanda, ovvero, cosa ne pensi, del Mainman, nata da un 37, e l'altro, ti chiedo, se puoi salutare, tutti, gli amici, barra colleghi, appassionati di orologi, di Castello d'Agonia, ciao, un saluto, a tutti gli amici, appassionati, di Castello d'Agonia, fatta, la marchetta l'ho fatta, per mai, non lo so, non è momento di parlarne, siamo qua a divertirci, con le cartoline, dai, buongiorno Davide, sono Luigi da Palermo, un saluto, con il mio Mido, Ocean Star, calibro 80 di Mido, al cui ho sostituito, il cinturino, con questo in silicone, un saluto, dalla Valle dello Iato, Iato, bello, bel posticino, bravo, 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 bravi ragazzi, bravi, 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 mi avete fatto, a piacere sta roba qua, anche guardare lì d'inverno, quando non ci saranno più, va bene, allora, vanno per la maggiore, vanno in ProMaster, va per la maggiore, proprio veramente, seguito dai Seiko, e diciamo che Squale, eh, Citizen, Seiko e Squale, sono gli orologi più utilizzati, durante l'estate, sarà un motivo particolare, non lo so, va bene, comunque, grazie per le cartoline, ragazzi, io spero vi sia piaciuto, tutto l'ambaradano, che abbiate visto, ora, quando c'erano questi qua, la scimmetta qua, guardava, guardava gli orologi, immergersi, e dicevano, perché non lo facciamo anche noi, perché non ci compriamo quello lì, perché non prendiamo quell'altro là, perché anche a me, mi viene voglia, ogni volta che vedo un orologino strano, particolare, no, eh, ho visto quel longin cronografo, io non l'avevo mai visto, eh, mi piace, quello che era in montagna, no, quello lì mi piaceva, eh, ma, possibile che non lo conosco, eh, invece non lo conosco, va bene, eh, mi perdo nei discorsi, io vi ringrazio per essere arrivati fino qua, io vi ricordo gli appuntamenti fisici, che come sempre sono, quando voglio io il più spesso possibile, qui su YouTube, Love. Grazie a tutti.